Cercare di proporre questa cosa all'università è stato veramente duro e insomma alla fine siamo riusciti, siamo contenti di essere qua. I ragazzi sono venuti appositamente da tutta l'Europa, tutti hanno lavorato a Google e hanno fatto questa esperienza di stage in diverse sedi. Noi abbiamo fatto questa esperienza di stage a Poblino, ma nella Google Air Force europeo. Il mio programma a Google era un programma per studenti. Che cos'è il Google Ambassador? È un programma che è stato iniziato in America ed è lì che i ragazzi americani hanno deciso di trasmettere questa creatività e questa allegria comunque questa innovazione di Google anche all'università. Quindi una volta fatto l'ottaggio andiamo all'università per trasmettere. Più che altro per far vedere come effettivamente i prodotti Google veramente, veramente possono aiutarci tanto. Sì, è un'azolutamente grande locale. Abbiamo avuto la possibilità di vedere la città per due giorni per ora. Abbiamo avuto un po' molto. Abbiamo avuto un po' molto molto buon evento. Quindi, quindi, let's make it happen. Gostante la città. Lo ero in un'opportunità. L'ultima, quando è in Dublin e ho fatto un'ambiente a Google. È un'ambiente cosa che hai fatto. È stato un'ambiente, un'ambiente, un'ambiente. Ho ho avuto un干bietto. Sono fai lavorare in precisi in Google in Prado. E' un'office molto newa, e il mio preferito è che Google è una grande famiglia. Per esempio, se hai un badge per entrare in un'office in Praga, puoi usare il stesso badge per entrare in un'office. Quindi io posso andare a Tziric, andare in un'office, non mi chiede dove ho fatto, cosa faccio. Io posso sentire in un'office e lavorare lì. È stato fantastico, è stato ottimo incontrare tutti gli ambassisti. C'è un'office, c'è un'office, c'è un'office, c'è un'office e c'è un'office. E' stato molto contento di andare e andare a tutti i nostri universi, e spiegare la worde sui Google, sui gli universi, e di aver un buon tempo.